Lacrime per Beatrice Luzzi alla vigilia del Grande Fratello 2024, che la vede protagonista quest'anno nel ruolo di opinionista in studio vicino ad Alfonso Signorini e a Cesara Buonamici. L'attrice ha rivelato in un'intervista verissimo che sta vivendo un momento molto delicato dal punto di vista familiare. Beatrice non è riuscita a trattenere la commozione davanti a Silvia Tofanin. Dopo essersi ripresa, ha spiegato cosa sta succedendo. Beatrice Luzzi è stata la concorrente più popolare della passata edizione del Grande Fratello. Come sanno i telespettatori, l'anno scorso, durante la sua permanenza nella casa, Bea ha dovuto affrontare anche una tragedia, la morte di suo padre Paolo. L'uomo si era sottoposto, prima di Natale, a un delicato intervento chirurgico. L'operazione sembrava essere andata bene, poi però le sue condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate. Ora c'è dell'altro. La confessione di Beatrice ha verissimo, mamma non sta molto bene. Non sta bene un po' per il lutto di mio padre e un po' perché ha tanti anni. Una patologia dietro l'altra. È stata con me tutto agosto e non è stata bene. E nemmeno adesso. Le parole dell'attrice hanno colpito molto Silvia Tofanin, mi spiace tanto, ha commentato la conduttrice mostrando la sua vicinanza a Luzzi, si diventa genitori dei propri genitori. Nella casa del Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi ha spesso parlato di sua mamma Silvestra e del loro rapporto. Il loro legame è oggi molto forte, ma in passato non sono mancate difficoltà tra loro. È stata proprio Beatrice ad ammetterlo nel corso di una diretta del reality con Alfonso Signorini. Mia mamma negli anni ha tentato di superare la sua educazione pudica. Negli ultimi anni è riuscita a darmi tantissime cose, aveva spiegato infatti l'attrice. Sua mamma Silvestra, infatti, è stata una donna severa. Beatrice ha raccontato che, da piccola, spesso si ritrovava ad attendere nel letto il suo bacio della buonanotte, che non arrivava mai. Un ricordo che l'ha toccata profondamente, al punto da farla piangere anche in diretta. Mi dispiace se può esserci rimasta male. Ha poi aggiunto, abbiamo recuperato tanto. Il fatto che fosse più dalla parte di mio fratello è che forse lo vedeva più fragile.